Partita la prima batteria con Cianni, Occhetti, Pagani, Cugnetto e Siviglia. Bisogna fare il tempo, si guardano un po' ad essenzio Cugnetto davanti, per finire anche nella gara a punte, è rimasta attaccata ai primi due per molto, quasi, per tutta la gara, adesso prende il Cianni all'esterno. Suona la campana, è molto più veloce di Pagani, invece il secondo è arrivato nella gara a punte, torna davanti Cianni, il primo tempo è quello di questa batteria per la categoria allievi. Arriva Federico con tempo di 51.92. La partenza è valida, con subito davanti Riccardo Gerosa, con Frije in seconda posizione, sembrava un po' di più il protacollori della Razzola Corlettima, giudicamente rimane dietro all'versario, al passato suonerà la campana. Lorenzo Frije, infatti passa, con una giurosa in seconda posizione, risale anche Mattia Ticca, che è proprio 100 metrista, non è? Lorenzo Frije, poi Mattia Ricca, Lorenzo, il tempo di Lorenzo, 50 e 30, che è il migliore, fino a questo momento, 50 e 30, ed è partita la terza, la terza batteria, con Fosni, un gol di forza, riesce ad andare avanti, ma viene superato all'esterno da Carlo Tagliabue, che rimane davanti, adesso Tagliabue e Lampitelli, prima seconda rimane un po' imballato, Rosni, a bullò, l'avversario, Carlo Tagliabue, e Francesco Lampitelli, si distendono in terza posizione, Giovanni Fiorini, che adesso va quasi a chiudere completamente, è lì, la gap con i primi due, e prova di un rituale interno, Giovanni Fiorini, Tagliabue, Fiorini, tempo 52, e 24, partita, questa quarta e ultima batteria, con Filippo Ravelli, grande frequenza per lui, che va davanti a Lorenzo Maggioni, è un altro personaggio interessante, dal partinaggio di quest'anno, con poi il portacolore del squadro di casa, l'avevo Caroleo in terza posizione, ma Filippo Ravelli, già campione italiano qualche anno fa, ha cresciuto tantissimo, anche di statura, nell'ultimo paio di stazioni, l'allievo di Andrano di Piazza, di Stene, Caroleo va secondo, bello il sorpasso all'interno, dell'attività di casa, occhio al tempo di Filippo Ravelli, 50 e 30 batteri, non dovrebbe essere un problema la qualificazione, quando io arrivo a Filippo, tempo 49 e 15, è miglior tempo di quasi un secondo, 49 e 15, Filippo Ravelli.